davvero molto insolito quello che sarebbe accaduto in onda nel video o meglio in un servizio di un telegiornale e tante persone infatti sono rimaste piuttosto tormentate dalla presenza di un bimbo che all'improvviso però mentre una donna viene intervistata in strada sembra quasi comparire dal nulla come ha fatto potrebbe essere stato teletrasportato da qualcuno o da qualcosa tante sono le domande che i diversi utenti imprime su web poi in televisione si sono poste all'improvviso quindi ci sarebbe stata una gara a elencare infine di fantascienza che più ricordavano quel misterioso avvenimento c'è chi parla di ritorno al futuro c'è chi parla di star trek di matrix ed harry potter il mistero però alberga e continua ad essere presente per tante ore di tempo fino a quando però è stato risolto dalla giornalista di nome katie burfield la quale avrebbe detto non si è trattato cioè si è trattato di un piccolo errore in fase di editing e montaggio che ha lasciato un po di frame ripetuti alla fine del filmato insomma si tratta nella fattispecie concreta di un errore tecnico un errore che può capitare a chiunque in fase di montaggio in fase di editing di modifica del video che viene poi mandato in onda un saluto caro il video termina qua iscrivetevi al prossimo da narratore italiano